Siamo a prendere i panni Io ho tre lavatrici E poi devi pagare dopo Molto carino questo Molto utile Ci sono tante lavatrici Anche per lavare le colte degli animali Ed è aperto 24 ore su 24 Sono le 4 e 40 del pomeriggio Ecco qua Adesso prendo i miei panni Li piego Adesso piego Velocemente I panni Perché c'è il mio figlio che mi aspetta in macchina E quindi non ho tempo di stare qua Tanto A piegare Li piego Subito subito e mi piace l'oltre Se vado a casa è fatta mangiare Calze Calze Pantaloni Ma di tutto Ho trovato un po' le chiavi Le chiavi di mio figlio Della bicicletta Le lavate in lavatrice Incredibile Dicevo prima Dove sono le chiavi della bicicletta Ecco Le ho provate Era nella tasca Nella tasca e le ho lavate Non me ne sono accorti Le ho lavate in lavatrice E vabbè Incredibile Tante volte si trovano tutti i fazzoletti Meno male che Nel coinlandere non è mai successo Ma a casa A voi vi capita mai? Di avere i pantaloni Magari ti sei dimenticato di togliere I fazzoletti E ti trovi tutti i peli Tutti i cosi dei fazzoletti Atticcicati ai vestiti Mamma mia Che roba E poi li devi rilavare da un'altra volta Eh si eh Tocca rilavare tutto Aspita non ci sta più E adesso? Ce n'è ancora di panno Ah che fila Speriamo che non mi cada niente Aiuto Queste palline Questi non sono mica I gachapon Questi sono Il profumo Per la lavatrice 100 yen Forte eh Mi sono compiuta Qui c'è mio figlio Che guarda i video Ah quello Bello quello Torniamo a casa? Bene si torna verso casa Ciao ciao